Ormai è ufficiale, dal 14 aprile 2018 entrerà a tutti gli effetti in funzione il portale delle vendite uniche in Italia per quanto riguarda le aste giudiziarie. Ci sono dei vantaggi che sicuramente da questo portale potremo portare a nostro favore. E uno di questi primi vantaggi è sicuramente il fatto che sarà tutto telematico, quindi sarà tutto molto più semplificato e sicuramente la partecipazione potrai farla anche da casa o dal tuo ufficio piuttosto che recarti per forza di cose come avveniva in passato all'interno dell'aula di un tribunale piuttosto che nello studio del delegato alla vendita. Il secondo vantaggio che potrai avere è appunto che sarà molto più semplice fare appunto l'offerta per partecipare e soprattutto chiedere la visita, chiedere una possibilità di visita del bene mobiliare o immobiliare che vuoi vedere, quindi al cui sei interessato. Il terzo vantaggio è che tutte le aste giudiziarie, a differenza di prima, saranno raggruppate tutte all'interno di questo portale. Se ad esempio prima la vendita di un bene all'asta su Roma era gestita ad esempio dal tribunale di Milano o viceversa, cosa succedeva? Che se tu vai nel tribunale di Roma guarderai solo quelle vendite, quelle procedure che il tribunale di Roma aveva in gestione, ma non quelle che sullo stesso territorio però erano gestite da Milano, ad esempio. Invece in questo caso tu hai raggruppate con una sola ricerca, quindi ad esempio Roma, tutte le vendite all'asta giudiziaria che siano gestite da Roma, Bari, Milano, Napoli e così via in tutta Italia. E così come accadeva solo per qualche tribunale, un altro vantaggio è quello degli alert, quindi puoi avere la possibilità di essere avvertito quando c'è un bene di tuo interesse che è stato appena inserito all'interno del database delle vendite per le aste giudiziarie, quindi nel portale di vendite pubblico. Una delle poche cose che non potrai gestire se non hai la capacità, se non hai le competenze, se non hai le strategie, rimane sempre quella del business plan, rimane sempre quella della giusta ricerca che fa al caso tuo nel capire se è davvero un buon affare o se non lo è e soprattutto l'emozione poi di partecipare a un'asta. Perché è vero che tu adesso puoi, o noi tutti possiamo partecipare dietro lo schermo, quindi possiamo partecipare dalla tastiera del nostro computer, però l'emozione di un'asta, se non hai le giuste competenze, se non hai le giuste capacità, quindi se non hai imparato veramente a partecipare all'asta, può risultare molto fatale tra le varie cose che devi mettere in considerazione. Perché non sarà semplicemente la differenza nel partecipare fisicamente o telematicamente che ti potrà portare dei vantaggi, ma sarà tutto un insieme di cose. E uno di quelli svantaggi che potrai avere, continuare ad avere, anche telematicamente, sarà quella dell'emozione. Perché l'emozione legata al denaro, l'emozione legata a una gara, a una partecipazione dove c'è un bene che tu vuoi, gioca a volte dei brutti scherzi. Quindi prima di partecipare a un'asta giudiziare ci sono una serie di fattori da prendere in considerazione. Quindi se vuoi altri suggerimenti, altri consigli, altre pillole, strategie, puoi seguirmi sulla pagina Facebook, Aste Giudiziare Strategy, oppure puoi mettere gli alert sul canale YouTube, sempre di Aste Giudiziare Strategy.